La scena più seria per così dire del giovane Holden è l'incontro fra il ragazzo, il ragazzino Holden e sua sorellina che si chiama Phoebe e ha dieci anni. Holden dice di sua sorellina è un genio e in effetti questa bambina che appare a un certo punto è la figura saggia nella vita di Holden, paradossalmente. D'altronde in tutti i racconti, nelle storie che ha scritto Salinger c'è sempre questo privilegiare i bambini, il colloquio con i bambini come l'unico colloquio che ci è rimasto veramente autentico, un luogo della saggezza. Così anche Holden a un certo punto sente in questo suo vagabondare il bisogno di parlare con la sua sorellina. Allora si infila in casa, va fino alla casa dei suoi, si infila in casa la notte, non sa nemmeno se ci sono i suoi o no, si infila nella stanzetta della sorellina e la sveglia e lì vi dovete immaginare la scena di questi due. Lei 10 anni, lui 16, nel buio, lui non sa nemmeno se nella camera vicina ci sono i genitori, poi scopre che non ci sono ma stanno rientrando, insomma è tutto un po' clandestino, tutto un po' pericoloso. E c'è questo lungo dialogo e questa bambina all'inizio quando lui le dice mi hanno espulso dalla scuola per l'ennesima volta, lei dice solo papà ti ammazza, papà ti ammazza, lui parla e lei dice papà ti ammazza. Poi a un certo punto però viene fuori la vecchia Febbi saggia e lo inchioda. Lo inchioda con una domanda che è a lui ma è a tutta la generazione che poi di lui fece un simbolo. E gli dice questo, sì tu mi hai raccontato tutte queste cose, sono tutti scemi, la scuola sono stupidi, i professori sono fessi, anche papà e mamma, ok ma a te non piace niente di quello che succede, dice questo bambino. E Holden dice no non è vero, a me piace o no, no a te non piace niente, prova a dirmi una cosa, dimmi una cosa che nella vita ti piace, ma che ti piace veramente e lo inchioda perché lui non ha risposto. E lei continua, non lo lascia scappare, dice dimmi una cosa che tu vorresti fare da grande e che ti piace. Allora lui prova e dice ma forse l'avvocato, chissà una giornalista, ma non ha una risposta. Ed è la domanda in generale a tutto un mondo che è il mondo che rifiuta la vita normale, il sistema. Sì va bene che rifiuti ma poi c'è qualcosa che ti piace. Cosa vuoi fare da grande? Holden è inchiodato. Poi a un certo punto trova una risposta. Vedete una risposta da Holden, quarta fila, una risposta nascosta. Questa è la risposta qui. Sai cosa mi piacerebbe fare, dissi? Sai cosa mi piacerebbe fare se potessi fare quell'accidente che mi gira, voglio dire? Cosa? Smettila di bestemmiare. Sai quella canzone che fa se scendi tra i campi di segale e ti prende al volo qualcuno? Bene io vorrei, dice, se scendi tra i campi di segale e ti viene incontro qualcuno, disse la vecchia Phoebe, è una poesia di Robert Burns, lo so che è una poesia di Robert Burns, però aveva ragione lei, dice proprio se scendi tra i campi di segale e ti viene incontro qualcuno, ma allora non lo sapevo. Credevo che dicesse e ti prende al volo qualcuno, dissi, ad ogni modo. Mi immagino sempre tutti questi ragazzini che fanno una partita in quell'immenso campo di segale, migliaia di ragazzini e intorno non c'è nessun altro, nessun grande voglio dire, soltanto io e io sto in piedi sull'orlo di un dirupo pazzesco e non devo fare altro che prendere al volo tutti quelli che stanno per cadere dal dirupo, voglio dire se corrono senza guardare dove vanno, io devo saltar fuori da qualche posto e acchiapparli, non dovrei fare altro tutto il giorno, sarei soltanto l'acchiappatore nella segale e via dicendo. So che è una pazzia, ma è l'unica cosa che mi piacerebbe veramente fare, lo so che è una pazzia. La vecchia Fibi non disse niente per molto tempo, poi quando finalmente si decise a dire qualcosa, tutto quello che disse fu papà ti ammazza.